Beautiful, news americano, il ritorno di Stefanie. Anticipazioni Beautiful febbraio, tutto quello che ci attende nel corso dei prossimi episodi della sua popera. Ben trovati con le anticipazioni della sua popera di canale 5 Beautiful, la serie, che racconta le avventure dei Forrester, e che va in onda dal lunedì al sabato con una media di circa 3 milioni di telespettatori. Oggi vogliamo darvi qualche news in merito a quello che sta succedendo in America, e che promette di emozionare molto il pubblico. Infatti, nel corso dei prossimi episodi ci saranno delle nuove nozze tra Broke e Rige e c'è anche una piccola curiosità in merito a questo. Nonostante Broke e Rige si siano sposati innumerevoli volte. Questo sarà il primo matrimonio, che vedrà protagonista lo stilista interpretato da Torstencai, il nuovo attore, che presta il volto a Rige. Dal suo ingresso nel 2013, infatti, Torstencai ha avuto numerose partner e ha interagito poco con Caterine Kelly Manu, forse per lasciare al pubblico il tempo di abituarsi al recast. Ora, però, è giunto il momento di assistere ai tanto sospirati fiori d'arancio. Stefanie torna sotto forma di voce. Ebbene sì, proprio nella puntata del 9 febbraio, in Stati Uniti ovviamente, Rige e Broke pronunceranno il loro fatidico sì e tutto sarà reso ancora più emozionante dal fatto che ci sarà un intervento speciale, dall'aldilà. Le anticipazioni di Beautiful, infatti, ci informano di come la cerimonia si terrà nel salotto di Eric Quinn, e che Broke insisterà per rimettere il quadro di Stefanie sulla parete, quasi a voler la benedizione dell'ex rivale. Ebbene, pare proprio, che Stefanie rivolgerà un messaggio alla nemica di sempre, dandole il suo sopporto per il nuovo matrimonio. Questa scena farà molto piacere, sicuramente, al pubblico, che attende da anni il ritorno di Stefanie nelle storie. Ricordiamo che la matriarca di Beautiful è morta a seguito di una brutta malattia e quindi è praticamente impossibile, che possa essere reintrodotta nelle storie dei Forrester. Sono ormai sei anni, che Susan Flannery ha abbandonato la sua app e la scena della morte di Stefanie che è stata molto commovente. La donna chiese perdono a Broke per averla sempre ostacolata nel corso degli anni e la esortò ad essere felice con o senza rigge. Ora, tuttavia, pare proprio, che il destino dell'aroganzia nuovamente con l'ex marito e grande amore della sua vita. Quanto durerà questo nuovo legame? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprirli ma intento vi ricordiamo che noi, in Italia, vedremo queste scene solo tra circa otto mesi.